Diamo anche il benvenuto in studio, ancora una volta, a Mario Ravalico. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Grazie, tre tanto. Buon pomeriggio. Mario Ravalico, nato a Pirano, giunge a Trieste nel 1954 con la sua famiglia al tempo dell'esodo dall'Istria. Sposato con Giuliana Terzani, attualmente in pensione per molti anni, ha svolto attività sindacale a Trieste e a Roma. Aderente fin da ragazza all'azione cattolica, ha assunto diverse responsabilità nella comunità ecclesiale. Dagli anni dell'emergenza, profughi dall'ex Jugoslavia è stato per oltre un decennio direttore della Caritas diocesana di Trieste, attivando, tra l'altro, progetti di collaborazione di reciprocità con alcune Caritas diocesane nei paesi vicini, in particolare con quelle di Capodistria, Parenzo e Pola, Nuovo Mesto, Fiume, Belgrado e Mostar. Mario Ravalico oggi è qui con noi e assieme al suo ultimo volume dedicato al Beato Francesco Bonifacio. Il volume si intitola Che Dio ci perdoni tutti, vita del Beato Francesco Bonifacio, uomo di dialogo e di perdono. Il volume è edito dall'Associazione delle Comunità Istriane di Trieste. Mario Ravalico, un lavoro, un nuovo lavoro quindi su Beato Francesco Bonifacio, un lavoro che tira le somme su quanto fatto in questi anni da te, ci daremo del tu, così abbiamo deciso prima di cominciare, conoscendoci anche da qualche anno, le somme di questo lavoro svolto da te, ma anche da tante altre persone. Vedremo anche in segreto, proprio a ridosso, della data che vide l'uccisione in odium fidei del Beato Francesco Bonifacio. Ma prima appunto di concentrarci, soprattutto sulle ultime novità che sono emerse riguardo la sua sparizione e lo spostamento della Salma, potremmo cominciare, per chi avesse sentito oggi per la prima volta nominare il Beato Francesco Bonifacio, potremmo cominciare col contesto storico. Un contesto difficilissimo che riguarda Don Francesco Bonifacio, ma riguarda tutti gli abitanti dell'Istria e anche oltre. Sì, è proprio così. Don Francesco arriva a Crassica, a Villa Gardossi, allora si chiamava, nel agosto del 1937. Siamo alla vigilia della dichiarazione della Seconda Guerra Mondiale. Quindi il paese è immerso in questa situazione, ma per la verità durante la guerra c'erano problemi sicuramente di povertà, gli uomini non c'erano perché erano a combattere, però non c'erano fatti eclatanti. Questi iniziano dopo l'8 settembre 1943, dopo l'armistizio. E allora Crassica, anche perché si trova all'interno, è un paese sperduto, a pochi chilometri da buie, non è un paese ma in realtà è un insieme, un territorio costituito da 11 piccole borgate e tante case sparse, si nascondono i partigiani, avvengono i combattimenti da varie parti, non solo, beh, durante il periodo dopo l'armistizio passano tanti soldati italiani di là e proprio in casa di Don Francesco, lui li fa spogliare, procura gli abiti civili, li tiene nascosti per qualche notte, li li focilla, partono, non sa se tornano sani e salvi a casa, però qualche mese dopo, per esempio in un caso, riceve una cartolina da Foligno che gli dicono siamo arrivati. Ma poi c'è il periodo dei bombardamenti, poi c'è il periodo durante il quale i tedeschi occupano e si nascondono presso un casolare, tre case proprio, ma tre case, tre, di un piccolo borgo che si chiama Gobzi, si nascondono dei partigiani, arrivano, i tedeschi intendono dare fuoco a questi casolari perché sanno che ci sono questi nascosti. Don Francesco con un grande coraggio, stiamo parlando di una persona che aveva 27-28 anni quella volta, si presenta lì e va a dire qua non c'è nessuno, dovete andare via, non potete bruciare e attraverso questo colloquio che lui riesce a installare il viaggio è salvo. Io ho incontrato un giorno a Opicina un signore che è figlio di uno che abitava, il papà abitava là dentro e lui dice se noi siamo vivi, se mio papà era vivo è perché Don Francesco ha impedito questo. Ma c'è il bombardamento poi di un altro piccolo villaggio vicino a Buzai dove distruggono questi bombardamenti due case e lui sente sta cosa, gli dicono, corre, va a scavare tra le macerie e recupera il corpo di una bimba di pochi mesi che era viva. Anche qui è una storia, quando in un peregrinaggio andai a accompagnare delle persone in quel luogo, raccontai questo fatto, vedi una signora piangere e gli disse ma scusi perché lei? Dice quella era mia sorella, quindi ecco fatti come questi. Ma poi i combattimenti restavano sul campo morti, una volta i tedeschi, una volta i fascisti, una volta i partigiani. Di notte Don Francesco andava da solo, qualche volta con l'aiuto, se c'era di qualcuno, a recuperare i corpi e a dare le sepolture. Ecco, c'è una signora che ha scritto un bellissimo diario di quegli anni, intitolato Diario Villa Gardossi 1939-1950, dove racconta queste cose e dice e conclude questo racconto dicendo dove c'era bisogno e lì c'era Don Francesco. Ecco, questo era il contesto ma anche il modo come lui si poneva. Si poneva in questo modo e in un periodo che finita la seconda guerra mondiale per il clero, così come per tante altre persone, continua a essere drammatico. Il clero, Don Francesco Bonifacio, il clero di nazionalità italiana, ma anche il clero croato, viene attaccato in quel periodo, politicamente e spesso anche fisicamente. Ecco, questo è vero. Il bersaglio era tutti coloro che in qualche modo contrastavano l'avvento del comunismo e quindi l'ideologia marxista. Perseguitavano i preti italiani sicuramente, in più avevano la caratteristica, l'aggettivo di essere italiani, ma perseguitavano anche i preti croati. C'è da fare un distinguo. All'inizio, finita la guerra, nel 1947, quando cominciò, diciamo così, i primi movimenti partigiani erano già iniziati prima, ma in qualche modo il clero, almeno un gruppo sostanzioso, ecco, non tutti, ma una buona maggioranza, il clero croato era perché, questo è storicamente provato, queste terre venissero assegnate alla Jugoslavia. Ma quando poi, una volta assegnata la Jugoslavia, e avere la certezza che l'Istia era Jugoslava, questi preti sono stati a loro volta abbandonati e perseguitati a loro volta. Quindi anche il clero croato ha subito questo, ma i nomi si potrebbero fare a lungo, ecco, io ho voluto dire all'inizio del libro, così, la dedica, dedicare a tutti coloro che ho perso la vita o furono comunque perseguitati per il loro ministero. Quindi tempi difficilissimi questi, sapendo che qualcuno cede prima, scappa, qualcuno resiste un po' e poi eccetera, qualcuno va a finire in prigione, il caso di Don Emanuele Dalmas, un prete che viene messo tre volte in prigione, liberato ogni volta perché la sua gente va a protestare. La terza volta lo liberano, però lo imbarcano sulla corriera, scortato, lo portano via al confine, va a Trieste, non metterà più piede. Ecco, e lui continua invece Don Francesco a dire, ma io qui ho fatto solo il mio dovere, non ho fatto male a nessuno ed è bello anche recuperare tutti i suoi scritti, tutte le omelie in cui non c'è mai un cenno a fatti politici. Ecco, quando c'è la guerra, dice i momenti difficili, ma non prende parte, quindi non si può dire che lui abbia patito questo perché aveva preso una posizione. Lui era ad annunciare il Vangelo, questo e null'altro. Eppure, l'11 settembre del 1946, Don Francesco Bonifacio scompare. Scompare è un termine vago, è un termine sul quale Mario Ravalico, con tante altre persone nel corso della storia, ha voluto fare chiarezza. Noi chiederemo a Mario Ravalico di raccontarci quello che emerge, di raccontarci anche la sequenza di eventi che ha visto poi l'uccisione di Francesco Bonifacio, ma lo farò mi dopo un intermezzo musicale, a tra poco. Sempre a sconfinamenti, assieme a Mario Ravalico, autore del volume Che Dio ci perdoni tutti, vita del Beato Francesco Bonifacio, uomo di dialogo e di perdono. Il volume è edito dall'Associazione delle Comunità Istriane di Trieste e raccoglie e contestualizza le memorie e le ricerche che sono state fatte intorno al Beato Francesco Bonifacio, alla sua sparizione, contestualizzando, come abbiamo sentito anche all'inizio della puntata, da Mario Ravalico con noi in studio, contestualizzando il periodo difficile che vede odio e persecuzioni diffondersi in tutta l'Istria, compreso il buiese, compresa Crassizza. Mario, siamo arrivati all'11 settembre 1946. Don Francesco Bonifacio aveva operato nel periodo bellico, nel periodo post bellico, sempre a favore appunto dei suoi fedeli, ma a favore delle persone in generale, di chiunque avesse bisogno. L'11 settembre 1946 abbiamo una catena di eventi che è stata ricostruita e che porta alla sua scomparsa. Sì, ormai all'11 settembre 1946 il Comitato Popolare Locale aveva già preso la decisione in una seduta di ucciderlo. Una proposta che venne fatta dall'allora Presidente, dove dice è meglio uccidere il pastore così si disperderà i gregi. E' una frase storica, scritta, non contestata, qualche anno dopo, quando questo signore, ravvedendosi, è stato anche sentito dal Tribunale di Ocesano, l'ha confermata. Quindi la decisione su lui era già stata presa, ma non doveva essere ucciso lì. Doveva andare a fiume, essere portato a fiume, anzi ad Abbazia, dove c'era il comando dell'esercito di Gosdavo che presideva e governava la loro zona B, lì dovevano interrogarlo e poi la decisione sarebbe stata resa esecutiva. Le cose non andarono così. Probabilmente l'insieme, chi presideva il gruppo che fermò, arrestò e poi uccise Don Francesco, perse la bussola. Era un ufficiale di 27 anni. Dunque, in giugno si era sposato con una del luogo. Lui era un istriano, non di là, ma della periferia di Barbana, Barbana d'Istria. Si era sposato in giugno e in luglio, un mese dopo, aveva fatto il matrimonio civile, perché erano separati allora, in comune a Buie. In quella circostanza, a dire l'importanza che aveva questa persona, era stato prestato a lui, sono state prestate due macchine, forse le uniche due che esistevano, per portare in giro gli agenti parenti. Questo chi era? Ufficialmente era il segretario degli affari interni del distretto di Buie. Tradotto volgarmente, era il capo dell'Osna dei Buiese. Quindi aveva diritto e potere di vita e di morte su tutti. Lui perse la testa, probabilmente, perché se così andarono le cose. Avevano dato ordine che in tutte quelle stradine e sentieri, ogni vicolo, non ci fosse nessuno che lo vedesse. Quindi avevano piantato lì delle persone, ma alcune ho anche parlato, per il modo che garantissero la non visibilità da parte di chiunque o chi passasse di là. Ma anche questo non andò in questo verso. Era il tempo della vendemmia, molti contadini tornarono dalla vendemmia e videro. Ecco, e qui c'è il primo punto. L'unica certezza di tutta questa vicenda è il luogo fisico in cui egli venne fermato, che è un bivio tra Danieli e Radani, sotto Peroi, e venne fermato. Perché si sa? Perché passarono di là quattro persone, forse cinque. Con una di queste io ho parlato, era allora una ragazza di 17 anni, oggi ha 89 anni, che dice che io portavo le bestie al pascolo con mia mamma, tornavo a casa, e questo ho visto, l'ho salutato, e questo ho accomandato a mia madre, non girarti vai dritta via. Però lei girò la testa e vide e riconobbe uno dei due, che è quel signore di cui parlo dopo, Giordano. Quindi lo videro, per cui il posto certo si sa. Tutto il resto, e questi testimoniarono, che sparì nel bosco, lì vicino è un bosco. Tutto il resto sono ipotesi, credibili, possibili, il cimitero di San Vito, il cimitero di San Vortolo, la foiba di Martinesi, sotto un grumazzo, un insieme di pietra, di resti di lavorazione della campagna, ma là ce ne saranno dieci in quella stradina. Però nessuna di queste ipotesi ha la certezza di una persona fisica che abbia visto con le sue occhi. Faccio una piccola parentesi, la Chiesa non proclama mai beato uno se non hanno due condizioni, a parte il discorso della vita. Il corpo fisico e la testimonianza di qualcuno che visivamente ha potuto testimoniare. In questo caso nessuna delle due condizioni sono presenti. Eppure il postulatore dice, attraverso una testimonianza indiretta, ne parleremo dopo, di un regista, ecco dice che è credibile quello che è stato detto. Quindi vuol dire che, insomma, ha ritenuto. Però la certezza del luogo non si conosce ancora oggi. Per cui viene prelevato, viene circondato da alcune persone e poi cosa succede? Lo trasportano in un altro luogo? E poi, secondo alcuni, lo trasportano in un altro luogo dove verrà praticamente malmenato, pestato e ucciso. Secondo altri, avviene là, ma questo là non si sa dov'è. Non là, ma dopo il bosco, ma non si sa. Lui doveva andare a Fiume, a Albazia. Qual era la strada? Sono andato a guardarmi le carte geografiche di quel tempo. Non esisteva la cosiddetta strada diretta, quella che costeggia il fiume Quieto. Quella venne fatta negli anni 70, 72, 77. Esisteva un'altra che passa per le vade. Ed ecco il perché, lo riprendiamo anche questo dopo, magari di le vade che c'entri in qualche modo. Quindi, queste, e allora di fronte a queste incertezze, resta un punto di domanda. Ecco perché si dice il suo corpo non venne mai ritrovato. Il fratello, la notte stessa, con un amico, andò la strada inversa, i boschi. Non trovò nessun segno. Andò presso il comando prima di Crisignana, che dissero non sappiamo nulla. Poi andò a Buie, nella sede della polizia. Lo arrestarono, dicendo che dice delle menzogne. Rimase tre giorni e due notti in carcere, insieme al suo amico. Lo liberarono. Ma la mamma andò persino a Dalbona, dove aveva sede il Tribunale Popolare. Ma non le dissero nulla. E quindi, ecco, resta questa qui. Poi, piano piano, dopo l'anno 96, 96 avviene una grande cerimonia, 50 anni di ammartirio. Sì. Ormai i muri sono caduti. Ancora con difficoltà si parla, perché la paura è ancora così. Ma comunque si fa strada, qualcuno parla di più. In questa grande cerimonia fatta sul piazzale, oltre 2.000 persone presenti, tantissima gente da Trieste, da Capodistria e dal luogo, ovviamente. Si incontrano lì anche persone che in qualche modo, il fratello dice, potevano essere implicate. E c'è questa domanda, ma come anche Tite sono qua? Ecco. Perché no? E lì qualcosa scappa. E da quel momento, però, dopo quella cerimonia, si potrebbe parlare liberamente in Istria di questo fatto, che prima chi parlava rischiava la prigione. Eppure nel frattempo c'erano state delle azioni di ricerca, degli interessi, degli interessi spesso tenuti segreti. Possiamo parlare anche di questo, Mario, perché nel libro c'è un accenno, c'è un capitolo dedicato proprio a questi primi tentativi di fare luce sulla sparizione, sulla scomparsa e sull'uccisione di Francesco Bonifacio. Monsignor Santim, il vescovo di Teste Capodistria, allora non si era mai dato pace di come potesse essere finita quella storia. Aveva coinvolto tante persone, preti e laici, a cercare notizie, ne aveva trovate, ma senza arrivare a capo di questo. Alla fine, in modo molto riservato, come hai detto, si è rivolto al console di Capodistria, non aveva competenza, perché semmai aveva competenza quello del Buiese, però questo si dette da fare. Trovò un suo dipendente, amante del teatro, che andò a incontrare, perché andava a teatro, un regista, un regista italiano, laureato a Roma, all'Accademia delle Belle Arti, che però negli anni della Jugoslavia andò dall'Italia a Jugoslavia a costruire il Sol dell'Avenire. Questo ha girato a tutti i teatri, in Istria, da Pola, a Fiume, a Rovigno, a Cittanova, a Capodistria, ci sono nell'archivio storico, nell'archivio del Centro Storico di Ricerca di Rovigno, tantissime note sulle sue compagnie, una compagnia chiamata Semistabile, fatta da lui e dalla moglie dei figli. E quindi, questo si prestò e andò a casa, anche in modo, se vogliamo dire così, un po' avventuroso, a casa di uno, si sapeva dove stava, di uno o di due esecutori materiali a cercare di parlare. Non andò una volta, andò per tre volte, da febbraio a settembre del 72 o 73, adesso mi sfugge l'anno, e rimase ogni volta tre giorni lì per parlare, prendere appunti, e ogni volta cresceva un pezzettino, ogni volta c'era una correzione. Alla fine, nell'ultimo incontro, quello del settembre, raccoglie un po' tutto e questo raccontò come erano andati i fatti, senza dire due cose, dove era stato ucciso, perché evidentemente aveva paura, e dove il corpo era andato a finire. C'è da dire anche una precisazione che il metodo che usavano i poteri popolari, allora, il metodo è descritto in un libro interessantissimo, scritto dalla storica Orietta Moscarda, di Ierovigno, ecco, che racconta queste cose, avvenivano, gli arresti li facevano, la decisione la pregeva uno, l'arresto la faceva un altro, l'uccisione la faceva un terzo, la definitiva nascondimento il quarto, cioè, e uno non sapeva quello che avveniva prima o dopo, per cui c'è una catena. Difatti, questo signor Giordano, anche nel parlare con il regista, dove c'è una testimonianza giurata, non dice mai è stato portato, ho sentito dire, mi hanno detto, sembra che, perché nessuno sapeva questo, ecco, e quindi, queste ricerche che il vescovo ha fatto, però hanno portato, perché se non c'era, ad esempio, questo regista, oggi non si saprebbe come è morto, è morto con parole di perdono, a chi lo stava uccidendo, per tre volte, per questo, ecco, dice quella frase, e il maltrattamento che è avvenuto, l'uccisione con le pietre, poi con il coltello, cioè, queste sono cose che sono state dette in quella, in quella dichiarazione giurata, senza la quale, senza quel regista, oggi, mancherebbe anche questo tassello. E quindi, si comincia, appunto, ad aggiungere, ad aggiungere dei dettagli, a raggiungere la verità. Mario Ravalico, ancora un intermezzo musicale, prima di passare a quelli che sono stati i tuoi interessi, le tue ricerche, sul destino del Beato Francesco Bonifacio, sul destino del corpo, sarà interessante capire anche, quali sono stati gli interlocutori, e il metodo di ricerca, che in tanti anni, ha portato ai risultati, a tra poco. La vita del Beato Francesco Bonifacio e la sua uccisione in odium fidei, questo è l'argomento dell'ultimo volume pubblicato da Mario Ravalico, Che Dio ci perdoni tutti, vita del Beato Francesco Bonifacio, uomo di dialogo e di perdono. Il volume, lo ricordiamo, è edito dall'Associazione delle Comunità Istriane di Trieste. Mario Ravalico ci ha raccontato nei minuti precedenti il contesto storico all'interno del quale avviene la scomparsa di Francesco Bonifacio, ci ha raccontato anche le prime indagini che vengono portate avanti, anche segretamente, da più persone, per cercare di capire quale fosse stato il destino del sacerdote. Ora, Mario, arriviamo al momento nel quale comincia il tuo interesse, comincia il tuo ingresso nelle indagini. Ma io devo dire che il fratello Nino Bonifacio Giovanni, con il quale abbiamo avuto sempre un rapporto molto familiare, citavamo del tu, molto più vecchio di me, ha cercato per tutta la sua vita, attraverso le persone, mezze parole, persino ha avuto il coraggio dieci anni dopo il martirio, quindi nel 1956, di andare a Cittanova a casa di uno, di quello che parlavo prima, degli uccisori, perché erano amici, si conoscevano in paese, quattro gatti, si conoscevano. è rimasto con lui parecchie ore, lo ha invitato a pranzo e l'unica cosa che ha riuscito a dire, svilgolando da tutto, è stato quello di dire al mio posto anche tu l'avresti fatto. Ecco, questa è l'unica ammissione, diciamo, in diretta. Quindi, un coraggio che ha cercato. Poi, verso quando, quando lui ormai non riusciva più a muoversi, non era più autonomo nella guida della macchina, eccetera, mi chiamò e mi disse ti prego, cerca anche tu di darti da fare, ma la stessa cosa la fece l'ultimo prete che lo vide, quello che lo confessò, Don Giuseppe Rocco, che visse molti anni a lungo, anche lui per tutta la sua vita e anche lui mi cercò quasi con coincidenti, per cui nel 2011 ecco, iniziarono così, questo affiancamento, io non sapevo neanche dove mi portava, dopo ho capito che Don Rocco voleva passarmi il testimone e come è nato? È nato attraverso alcune cose molto semplici, dopo la sua beatificazione abbiamo fatto dei piccoli peregrinaggi di vari gruppi, di varie parocchie nei luoghi della sua vita, della sua morte, del suo martirio e in questi peregrinaggi ho trovato delle persone via via, ah ma io ero una di quelle ragazze allora ero lì, ho abitato là e quindi saltano fuori dei nomi, per me nomi fondamentali, allora una signora farà a fine maggio 94 anni è ancora viva ovviamente con la testa che gli funziona benissimo la signora Ede che è stata preziosa perché quando è successo i fatti di Don Francesco le aveva 17 anni e mezzo ed era lì a casa quindi mi ha aiutato a capire tante cose a far conoscere le persone la stessa cosa è venuta con una signora di là che è venuta a mancare 3 anni fa a luglio la signora Iolanda anche lei una delle ragazze di Don Francesco e mi ha raccontato tante cose poi c'è stato un signore che ha qualche anno più di me che vive in una frazione di Crassica adesso non mi viene il nome e che era un ragazzino e che però lui avendo abitato ed è sempre stato lì ha conosciuto tutte le persone del luogo mi ha aiutato a capire anche i legami parentali di tutti questi per cui piano piano ho cominciato a selezionare e in questo contesto di persone circa 450 in qualche modo che ho visto seppure a gradi diversi a livelli diversi chi sapeva tanto chi ha detto un pezzo chi solo ha dato un riferimento di un'altra persona in questo contesto ho potuto anche avere la possibilità con tante difficoltà di parlare con ex comandanti della difesa popolare dei paesi vicini degli anni immediatamente successivi ad esempio un signore era il capo della polizia del comando popolare di Chisignana il primo gennaio 1947 quindi tre mesi dopo ma altro che hanno parlato e allora raccontano tante cose finché si parla in generale quando poi si va al nocciolo ci sono tante resistenze io non le chiamerei omertà sono paure determinate da una sorta di giuramento morale che allora era stato fatto e che ancora oggi impedisce di parlare ho trovato poche qualche rarissima persona che dice se vuoi fai il mio nome ma tu te la ti ti racconto ma ti prego ecco resta e poi l'altro quindi quando dico gli archivi mi riferisco a queste persone senza le quali io non avrei potuto fare niente perché non sarei andato avanti e ovviamente andando in quei luoghi sono ancora tanti italiani cercare casa per casa le persone trovando grandissima apertura tanto per dire una ti invitano a pranzo ecco e poi cercare negli archivi parrocchiali in particolare di tre parrocchie Buie Chisignana e Cittanova e ho trovato tante cose ecco l'unico luogo in cui ho potuto vedere e conosce il nome dell'ufficiale che ha deciso questo era stato una nota di un parroco che è stato 43 anni parroco a Villa Gardossi Classica Don Irenco Gallo che è andato a finire due volte in prigione portando via il passaporto a causa delle sue ricerche segrete su Domu Anifaccio ecco lì ho trovato il nome in un archivio cosa che nessuno mai aveva visto io ho trovato porte e finestre aperte quando mi sono mosso addirittura il parroco di Buie è morto due anni fa un certo punto mi disse se tu vuoi cercare un terreno che è il proprietario per fare uno scavo bene se vai a Catasto hai difficoltà con la lingua vado io mi ha portato tutte le mappe catastali ecco e poi c'è il filone invece degli archivi ufficiali quelli dello Stato l'archivio di Fiume di Pisino e di Zagabria croati l'archivio di Capodisti e di Ljubljana io mi sono presentato con la procura del fratello quindi documenti sempre nella doppia lingua italiano sloveno italiano croato e ho trovato sempre risposte in qualche caso anche molto puntuali c'è un punto un neo ecco io avrei dovuto andare in archivio a cercare perché mi hanno citato i fondi dove non trovavano hanno trovato delle cose che erano dipendenti questi del ministero degli interni ma di più non ho potuto dirmi perché le parti più delicate di questa vicenda sono date a finire nell'archivio dell'esercito iugoslavo che essendo i capi erano serbi è andato a finire a Belgrado Belgrado non dimentichiamo che quel palazzo è stato bombardato dagli avvenimenti della Nato del Kosovo eccetera e quindi la ricerca molto probabilmente in quel caso si ferma ma Mario Ravalicco quali sono i risultati i principali risultati di questi anni di ricerca attraverso archivi archivi viventi testimonianze e aperture che hai citato da parte delle persone quali sono gli elementi che hai potuto aggiungere alla vicenda allora gli elementi che danno certezza sono sostanzialmente questi il primo che apprende la decisione dell'uccisione non era gente venuta da fuori ma erano persone del luogo quasi tutti italiani istriani tranne uno un croato della Dalmasia questi erano persone molte di questi che avevano girato anche attorno alla chiesa di Don Francesco lui li conosceva personalmente ma poi col nuovo regime si erano aggregati per l'ideologia ed erano diciamo passati dall'altra parte per così dire però quando dice gli slavi no chi lo ha ucciso questo è testimoniato da fonti scritte da documenti da testimonianze orali raccolte sono persone del luogo quindi ecco la seconda certezza in tutti i documenti ufficiali che la chiesa prepara per la sua beatificazione quando parla dell'ufficiale dice l'uomo dai calzoni della divisa perché aveva la zecchetta borghese e i calzoni invece non mette mai il nome io mi sono chiesto tante volte perché non si sapeva non si doveva dirlo nessuno poteva nominarlo ecco lì ho avuto la certezza di chi era questo chi fosse questo qual era il suo ruolo perché ho trovato questi appunti in un archivio della parrocchia di Grisignano dove il parroco come dicevo prima con molta accuratezza ha scritto queste cose in croato poi ho fatto tradurre da fonti diverse per un paragone perché ecco la terza cosa che si può dire è la certezza che lui è morto perdonando questa è la cosa forse anzi sicuramente più importante che era presente che ha testimoniato mai direttamente alla polizia mai direttamente al tribunale di Cesano ma attraverso un intermedio un fiduciario diciamo così però ecco è morto perdonando quasi dieci giorni prima il primo settembre 46 quando nell'ultimo media scritta che noi troviamo forse ce n'è ancora una ma quella non è scritta parla del perdono di Gesù sulla croce ai suoi crocefissori quasi prefigurando quello che sarebbe successo a lui ecco questa è la cosa più bella che altrimenti noi non avremmo conosciuto quindi anche questo ha portato restano queste incertezze sul luogo si si può dire si può ipotizzare ancora qualcosa si può magari escludere qualche traccia con più probabilità ecco allora la cosa più importante forse è questa che nel 2011 a marzo il Parlamento croato il Sabor approvò una legge io penso anche sospinto dell'Europa penso perché insomma una legge che tradotta dice questo adesso le parole sono quasi esatte ricercare in fosse comune o singole identificare dare degna sepoltura a tutti coloro che furono vittime fatti sparire vittime del regime comunista jugoslavo questa legge non fu facile a farla portare ad approvazione però arrivò sulle scie di questa legge iniziarono tante vicende alcune erano iniziate prima Casto era iniziato prima Neresine però sono anche frutto e nel 2017 in modo così molto timido oserei dire qualche incaricato della polizia inquirente di Pola andò nel Buiese a interrogare per quello che potevano sapere tre sacerdoti e una persona laica cosa potevano dire potevano dire so che dicevano pare che ecco è stato molto difficile questo però ne ho raccolto quel poco che potevano poi di questo non si è più seputò niente io ero informato da un amico da un giovane sacerdoto paroco allora di Cittanova che mi informò poi li chiesi ma non c'erano due anni dopo nel 19 venne riconvocato e allora lui mi disse guarda io ho visto che avevano un bel dossier non è chiesto sono andato a vedere però avevano anche dei documenti e mi hanno detto se ho qualche altra cosa e lui chiedendomi il permesso si permise io lo ho detto di dare il mio nome a coloro che lo stavano interrogando sapendo che avevo recuperato delle testimonianze dirette da persone che ai tempi della beatificazione non erano conosciute io ho detto un po' si vai fatto bene ma non so se capiterà mai nel 2019 a giugno improvvisamente mi arrivò dalla polizia di Pola un invito a recarmi e venne interrogato è un incontro molto lungo tre ore e mezza mi portai dietro parecchi documenti anche fotografici della FOIBA di quello che era stato trovato anche da parte nostra le ossa eccetera e mi dissero poi il programma che avevano avevano primo obiettivo cercare nella FOIBA perché la procura generale Zagabria aveva dato l'incarico a quella di Pola per questo sacerdote di cercare il tracce che la legge impone questo e poi successivamente mandai altri documenti le cose andarono per le lunghe non si riusciva a venire a capo nel frattempo il vescovo di Trieste oggi amministratore apostolico mi fece un documento una procura a rappresentare la dioce di Trieste per le vicende di Don Bonifacio presso l'autorità croate questo documento mi permise di interloquire con la procura di Striana con la polizia istriana e con le autorità diplomatiche devo dire che l'ambasciatore italiano a Zagabria si dette molto da fare nel febbraio del 21 e quindi diede poi in qualche modo la spinta e l'attuale console di Fiume con il quale sono in permanente contatto è quello che segue questa cosa appunto io con lui e poi inaspettatamente io non lo sapevo negli anni del covid era che difficile muoversi nel settembre del 2020 un gruppo di specialisti nel campo di queste ricerche proveniente a Zagabria sono andati sono scesi nella foiba hanno recuperato la foiba a 120 metri circa la foiba dei martinesi per aggiungere un nome localizzare sì sì vicino a Martinci sempre nel comune di Griginiano e recuperarono un po' di materiale osseo lo portarono all'esame degli istituti di anatomia di Zagabria poi dopo un po' di tempo e un anno dopo nel settembre fine settembre 2021 veni contattato dalla polizia che mi chiese di trovare se riuscivo dei parenti prossimi più prossimi possibili disponibili a sottoporsi all'esame del DNA cosa che abbiamo fatto e ai primi 4-5 non mi ricordo di ottobre del 21 siamo andati a Pola e a Pola dopo tutte le formalità in questura siamo andati nell'ospedale e hanno fatto il prelievo a due nipoti sulle mani una delle mani dei due di tutto il sangue eccetera alla fine è venuta fuori e finalmente il 31 maggio del 22 quindi neanche un anno fa è arrivata la mail da parte della polizia che mi citava il documento ufficiale della procura che dichiarava che quanto ritrovato nella FOIBA il profilo del DNA non era compatibile con quello dei parenti anche perché si trattava di una ragazza di sesso femminile cioè persone di senso femminile quindi si chiude una vicenda vuol dire che in FOIBA non era non è però qualche mese prima io ho avuto qualche così sollecitazione incontrare un signore lo chiamiamo ma si chiama così Mario come me ma cognome non lo dico io andò a ritrovarlo a Levade la patria del tartufo felice di incontrarmi non ci conoscevamo e mi raccontò una storia molto verosimile lui insieme ad altri nove ragazzini di 9-10 anni qualcuno più piccolo giocando in un bosco il bosco di Levade proprio all'inizio sotto San Marco sotto Montona c'è la tabella la zona protetta eccetera e giocavano a una palla con una palla fatta di carta mentre pascolavano gli animali la palla andò su un albero non lui ma un altro si arrampicò e dall'alto vide che sotto spuntavano dal terreno due piedi andarono scavarono impauriti scapparono via e mentre si recavano verso un vicino mulino oggi ci sono i resti era un mulino molto grande con due entrate dove arrivavano i cari col grano eccetera è facile trovarlo e trovano questo mugnaio che veniva via spaventato perché alla notte si era rinchiuso dentro in quanto che aveva sentito qualche cosa andò videro scavarono e andarono nei villaggi vicini Ipsa videotassici eccetera grandegne e recupero e la gente andò lì scavò e trovò trovarono tre corpi ovviamente avvisarono chi era incaricato la polizia arrivarono lì li tirarono fuori li allinearono succede che lì passò un signore che allora aveva avuto sui 60 anni identificabile questo ragazzo dice io me lo ricordo questo signore dice ma questo questo è il prete di Crassica e come faceva allora a conoscerlo perché questo signore aveva una sorella Crassica più vecchia di lui che aveva sposato uno di Crassica e il cognome lo sappiamo di Lozari e lo conosceva perché andava spesso a trovarlo ogni domenica e dice io lo vedevo ammesso ecco quindi allora io ho dato alla polizia ho sentito il dovere di informare questi di dare tutti i documenti scritti dichiarazioni molto abbondanti e so che nel 2023 a programma ci sarà delle ricerche in questo bosco grazie Mario Ravalico anche per quest'ultima informazione preziosissima che continua a far luce sulla fine di Don Francesco Bonifacio noi siamo in chiusura di questa puntata e grazie appunto per averci raccontato in maniera così esaustiva contesto e dettagli di questa vicenda un buon proseguimento Mario Ravalico grazie